La scelta di Antonio Conte per la panchina della Napoli, uno dei migliori tecnici italiani, indubbiamente uno dei più costosi, è un segnale molto forte, molto netto da parte del Napoli al termine di una delle stagioni più tribolate, la più deludente sicuramente dell'era dei Laurentiis, quella non a caso con ben tre cambi di guida tecnica. A noi sembrano due gli elementi più interessanti di questa operazione, che toccano peraltro due delle critiche che vengono mosse più frequentemente alla patron del Napoli. Anzitutto punto uno dell'Aurentiis ha scelto un allenatore dal carattere molto forte, quasi spigoloso, molto poco aziendalista, anzi in passato spesso Conte si è scagliato contro la propria società quando le cose cominciavano a non andare bene e questo è un segnale quasi a voler smentire quella narrazione che vorrebbe dell'Aurentiis circondarsi, che ama circondarsi solo di yes men o di poter disporre a piacimento dei propri collaboratori, fin anche a entrare in questioni tecniche e di spogliatoio. Il secondo punto è collegato a questo perché l'ingaggio del tecnico Salentino non è l'unica mossa fuori dal campo, perché si lega infatti ad un chiaro rafforzamento della compagine manageriale. Anche qui quasi a voler far capire di aver compreso che il problema dell'ultimo anno non era solo ed esclusivamente legato all'errata scelta dell'allenatore, del successore di Spalletti e viene da dire anche poi del sostituto di questo successore. La scelta di Conte quindi, al di là dell'indubbio valore del tecnico, è forte ma rischiosa. Perché? Perché sono due caratteri così forti, quelli di De Laurentiis e di Conte, che può succedere di tutto. Può scattare una scintilla vincente oppure quella stessa scintilla potrebbe poi, nei momenti difficili, far scaturire delle fiamme quasi indomabili e lì verrà di nuovo fuori il ruolo dei manager. Un direttore sportivo, ad esempio, non conta solo d'estate quando deve scegliere i calciatori sul mercato. C'è da prepararsi, e concludiamo, a una stagione senza coppe europee, per la prima volta dopo 14 anni e quindi con settimana tipo da passare tutta a lavorare a Castelvolturno. Diciamolo subito, non fare le coppe non è quasi mai un vantaggio, però per Conte, un allenatore molto vincente in Italia, meno vincente in Europa, forse come primo anno per una ricostruzione dalle fondamenta potrebbe essere un vantaggio. Staremo a vedere come si muoverà la società, soprattutto sul mercato, capiremo se la rifondazione passerà anche e soprattutto per una rivoluzione della rosa dei calciatori. Noi non ne saremmo così sicuri. Continuate a seguirci su Napoli Network.